Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi racconto una storia piuttosto incredibile riguardo alla mia BMW S1000RR. La S1000RR è una moto fantastica, nota per la sua potenza e le sue straordinarie prestazioni. Ma cosa succede quando la tecnologia che dovrebbe supportarti non è attiva? Recentemente ho deciso di portare la moto dal meccanico per un controllo della mappatura. Volevo assicurarmi che tutto fosse in ordine e che potessi sfruttare al meglio le potenzialità della mia moto. E qui arriva la sorpresa, abbiamo scoperto che l'elettronica della mia moto non era settata correttamente. In pratica ho guidato la mia S1000RR senza alcun controllo elettronico, come se avessi avuto una moto selvaggia, tra virgolette. Pensateci, senza traction control, senza corretta carburazione, tutte quelle caratteristiche che rendono la guida in pista più sicura e controllata. È stato un mix di emozioni, da un lato l'adrenalina pura di una guida vintage, dall'altro un certo timore per aver guidato la moto in queste condizioni. Quindi il mio consiglio è, controllate sempre che l'elettronica della vostra moto sia impostata correttamente. Non sottovalutate mai l'importanza di queste tecnologie, soprattutto su moto potenti come i 1000.